Oh 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 Bravo Bravo Calmo Bello Tira Tiro Bravo Vai ballo ballo Bello Bello Che prima Bello Come conto? Figgio Ricordiamo È di 3 a 1 In favore del J team Bello Come conto? Si era portato in vantaggio con la rete di Di Paul, spesso si dice a tempo scaduto, stavolta era a tempo, boh, chissà come si dice, neonato, perché al primissimo minuto di gioco Di Paul era schiaffata dentro, poi è arrivato il 2-0 di Perotti, poco dopo il 3-0 di Mosseddu che è andato a pescare lo stesso identico angoletto, nella fattispecie questo, per un 3-0 che poi è stato limitato ai danni dei Vapios dal 3-1 di Patalino che ha rubato il pallone agli avversari e è partito in 2-0, era schiaffata in rete. E c'è il lobbetto laggiù, la parte di JJ, 4-1. Grazie a tutti. La volata è partita da un po' prima di quello che abbiamo visto in realtà. La volata è partita da un po' prima di quello che abbiamo visto. E' partita da un po' prima di quello che abbiamo visto in realtà. La palla è schizzata in fondo della rete, abbiamo visto calciata laggiù, da Zunino non l'abbiamo visto appena partire, ci chiamiamo scusa era di pole, lì dal limite dell'aria abbiamo visto partire il pallone, c'era anche un elastico prima purtroppo, non siamo riusciti a riprenderlo perché ha calciato davvero all'improvviso. Incredibile quello che succede adesso. C'è la partenza del portiere del J Team, proprio JJ, superata la mediana e torna indietro. Poggiato a Zunino poi chiusura. Ha fatto alla fine Zunino. Ciao! Come stanno? Come stanno? Come stanno? A partito? Ah, è già qua. 5.5. Concentrate, eh, ragazzi! Tagliate, ragazzi! Ma, mettete le guanti, oh! Fa, sto, fa! Ma, hai che in topo! 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 Non calma, non calma! Lascia, lascia, lascia! Buongiorno! L'accomo! Ma, hai che in topo! Ma, hai che in topo! Ma, hai che in topo! Poi il fronte è riusciato! Poi aspettami! E' cosa mio? No! Oh! Sì! Vado! La tropperà D.P. Vado! D.P! La foto, no? D.P! 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 Sì! Guarda la foto! Bravo, Matteo! Guarda il D.P! Guarda il D.P! Guarda il D.P! Putta l'app! F*****? Forza a s*****! Tra l'ho sconata! Brava, Matteo! Grazie a tutti 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 Bravo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Bravo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti